ad alta voce moni ovadia legge il nome della rosa di umberto ecco sesto giorno dopo compieta dove quasi per caso guglielmo scopre il segreto per entrare nel finisafrice ci appostiamo come due sicari vicino all'ingresso dietro una colonna da cui si poteva osservare la cappella dei teschi abbone è andato a chiudere l'edificio disse guglielmo quando avrà sbarrato le porte dal di dentro non potrà che uscire dall'ossario e poi vediamo cosa fa non potevamo sapere cosa facesse dopo un'ora non era ancora uscito è andato nel finisafrice dissi può darsi rispose guglielmo preparato a formulare molte ipotesi aggiunsi forse è uscito di nuovo dal refettorio ed è andato a cercare jorge tutto può darsi disse guglielmo ma una cosa sola si dà o si è data o si sta dando e infine la misericordia divina ci sta offrendo una luminosa certezza quale chiesi pieno di speranza che frate guglielmo da baskerville il quale ha oramai l'impressione di aver compreso tutto non sa come entrare nel finisafrice alle stalle azzo alle stalle e se ci trova l'abate fingeremo di essere due spettri arrivamo alle stalle e sentimo i cavalli sempre più inquieti per la furia degli elementi intravedemmo nel buio le sagome dei cavalli riconobbi brunello perché era il primo a sinistra alla sua destra il terzo animale della fila al sol capo sentendo la nostra presenza e nitri sorrisi terzio sei qui dissi cosa chiese guglielmo niente mi ricordavo del povero salvatore voleva fare chissà quale magia con quel cavallo e col suo latino lo designava come terzio sequi che sarebbe la u la u chiese guglielmo che aveva seguito il mio vaneggiamento senza porvi molta attenzione sì in buon latino terzio sequi non vuol dire il terzo cavallo ma il terzo del cavallo oppure il terzo segno della parola cavallo e quindi la u ma è una sciocchezza guglielmo mi guardò e al buio mi parve di scorgergli il volto alterato dio ti benedica azzo disse ma certo supposizio materialis il discorso si assume de dicto e non de re che stupido che sono e si stava dando una gran pacca sulla fronte a mano aperta tanto che si udì uno schiocco e credo si fosse fatto male ragazzo mio è la seconda volta oggi che per bocca tua parla la saggezza prima in sogno e ora durante la veglia primum et septimum dei quattro non significa il primo e il settimo dei quattro ma del quattro della parola quattro non capivo ancora poi ebbe una illuminazione super tronos viginti quattro la scritta il versetto le parole che sono incise sopra lo specchio andiamo disse guglielmo forse possiamo ancora salvare una vita di chi chiesi mentre egli già stava armeggiando intorno ai teschi e aprendo il passaggio all'ossario di uno che non se lo merita disse ed eravamo già nel cunicolo sotterraneo i lumi accesi verso la porta che conduceva la cucina proprio mentre spingevamo la porta udimo alla nostra sinistra dei rumori sordi nel muro venivano dalla parete al fianco della porta su cui terminava la fila dei loculi coi teschi e le ossa i colpi venivano pareva da dietro la lapide oppure da sopra la lapide parte dietro la parete parte quasi sopra la nostra testa se un simile accadimento si fosse prodotto la prima notte avrei subito pensato ai monaci morti ma oramai ero pronto ad attendermi di peggio dai monaci vivi c'è qualcuno chiuso qui dentro disse guglielmo mi ero sempre chiesto se non vi fosse un altro accesso al finisafrice in questo edificio così pieno di passaggi evidentemente c'è dall'ossario prima di salire in cucina si apre un tratto di parete e si sale per una scala parallela a questa nascosta nel muro fuoriuscendo direttamente nella stanza murata ma chi c'è ora dentro la seconda persona una è nel finisafrice un'altra ha cercato di raggiungerla ma quella in alto deve avere bloccato il meccanismo che regola entrambe le entrate così il visitatore è rimasto intrappolato e deve agitarsi molto perché immagino in quel budello non passerà molta aria e chi è salviamolo chi sia lo vedremo tra poco e quanto a salvarlo lo si potrà fare solo sbloccando il meccanismo dall'alto perché da questa parte non conosciamo il segreto quindi saliamo svelti fumo in breve alla stanza dello specchio oramai preparati al gioco deformante che ci attendeva alzammo le lampade e illuminammo i versetti che sovrastavano la cornice super tronos viginti quattor ormai il segreto era chiarito la parola quattor a sette lettere occorreva agire sulla q e sulla r facciamo presto quando fu spinta in avanti la q fece udire come uno scatto secco e lo stesso accadde quando guglielmo agì sulla r l'intera cornice dello specchio ebbe come un sobbalzo e la superficie vitria scattò all'indietro lo specchio era una porta incardinata sul lato sinistro guglielmo inserì la mano nell'apertura che si era creata tra il bordo destro e il muro e tirò verso di sé cigolando la porta si aprì verso di noi settimo giorno notte dove riassumere le rivelazioni prodigiose di cui qui si parla il titolo dovrebbe essere lungo quanto il capitolo il che è contrario alle consuetudini ci troviamo sulla soglia di una stanza simile per forma alle altre tre stanze cieche e ptagonali in cui dominava un forte odore di chiuso e di libri macerati dall'umidità felice notte venerabile jorge disse ci attendevi la lampada ora rischiarava il volto del vecchio che ci guardava come se vedesse sei tu guglielmo da baskerville chiese ti attendevo da oggi pomeriggio prima di vespro quando venni a rinciudermi qui sapevo che saresti arrivato e la bate chiese guglielmo è lui che si agita nella scala segreta cor che ebbe un attimo di esitazione è ancora vivo domandò credevo che gli fosse già mancata l'aria prima che iniziamo a parlare disse guglielmo vorrei salvarlo tu puoi aprire da questa parte no disse cor che con stanchezza non posso più il meccanismo si manovra dal basso premendo sulla lapide e qui sopra scatta una leva che apre una porta là in fondo dietro a quell'armadio e accennò alle sue spalle potresti vedere accanto all'armadio una ruota con dei contrappesi che governa il meccanismo da quassù ma quando da qui ho udito la ruota girare segno che abbone era entrato da sotto ho dato uno strappo alla corda che sostiene i pesi e la corda si è spezzata ora il passaggio è chiuso da ambo le parti e non potresti riannodare i fili di quel congegno l'abate è morto perché lo hai ucciso oggi quando mi ha mandato a chiamare mi ha detto che grazie a te aveva scoperto tutto non sapeva ancora cosa io avessi cercato di proteggere non ha mai compreso esattamente quali fossero i tesori e i fini della biblioteca mi ha chiesto di spiegargli ciò che non sapeva voleva che il finisafrice venisse aperto e tu devi avergli promesso che saresti venuto qui e avresti posto fine alla tua vita come avevi posto fine a quella degli altri in modo che l'onore dell'abbazia fosse salvo e nessuno sapesse nulla così lo hai fatto venire qui sapendo che lo avresti ucciso non potevo più fidarmi neppure di lui era spaventato perché mi aspettavi come facevi a essere sicuro che sarei arrivato guglielmo chiedeva ma dal suo tono si capiva che egli indovinava già la risposta e la attendeva come un premio la propria abilità sin dal primo giorno ho capito che tu avresti capito dalla tua voce dal modo in cui mi hai condotto a dibattere su ciò di cui non volevo si parlasse eri meglio degli altri ci saresti giunto comunque sai basta pensare e ricostruire nella propria mente i pensieri dell'altro e poi ho sentito che facevi domande agli altri monaci tutte giuste ma non facevi mai domande sulla biblioteca come se ormai ne conoscessi ogni segreto ma sei riuscito a sottrarmi il libro sei andato da malachia che sino ad allora non aveva capito nulla agitato dalla sua gelosia lo stolto continuava ad essere ossessionato dall'idea che ad elmo gli avesse rapito il suo adorato berengario che oramai voleva carne più giovane della sua non capiva cosa centrasse venanzio con questa storia e tu gli hai confuso ancora più le idee gli hai detto che berengario aveva avuto un rapporto con severino e che per compensarlo gli aveva dato un libro del finisafrice non so esattamente cosa gli hai detto malachia è andato da severino folle di gelosia e lo ha ucciso poi non ha fatto in tempo a cercare il libro che tu gli avevi descritto perché è arrivato il cellario è andata così più o meno ma tu non volevi che malachia morisse lui non aveva probabilmente mai guardato i libri del finisafrice si fidava di te ubbidiva i tuoi interdetti lui si limitava a predisporre alla sera le erbe per spaventare gli eventuali curiosi le forniva severino per questo quel giorno severino lasciò entrare malachia nell'ospedale era la sua visita giornaliera per prelevare le erbe fresche che lui preparava ogni giorno per ordine della batte ho indovinato ha indovinato non volevo che malachia morisse gli dissi di ritrovare il libro in ogni modo e di riporlo qui senza aprirlo gli dissi che aveva il potere di mille scorpioni ma per la prima volta il dissennato volle agire di propria iniziativa non lo volevo morto era un esecutore fedele ma non ripetermi cosa sai lo so che sai non voglio nutrire il tuo orgoglio ci pensi già da te stesso ti ho udito stamane nello scriptorium interrogare bencio sulla cena cipriani eri vicinissimo alla verità non so come tu abbia scoperto il segreto dello specchio ma quando ho saputo dall'abate che tu gli avevi accennato al finisafrice ero sicuro che entro breve ci saresti giunto per questo ti aspettavo e ora cosa vuoi voglio vedere disse guglielmo l'ultimo manoscritto del volume rilegato che raccoglie un testo arabo uno siriano e un'interpretazione o trascrizione della cena cipriani voglio vedere quella copia in greco fatta probabilmente da un arabo o da uno spagnolo voglio vedere quella copia greca scritta su carta di panno che allora era molto rara e se ne fabbricava proprio a silos vicino a burgos tua patria voglio vedere il libro che tu hai sottratto laggiù dopo averlo letto perché non volevi che altri lo leggesse e che hai nascosto qui proteggendolo in modo accorto e che non hai distrutto perché un uomo come te non distrugge un libro ma soltanto lo custodisce e provvede a che nessuno lo tocchi voglio vedere il secondo libro della poetica di aristotele quello che tutti ritenevano perduto o mai scritto e di cui tu custodisci forse l'unica copia quale magnifico bibliotecario saresti stato guglielmo disse jorge con un tono insieme di ammirazione rammarico così sai proprio tutto vieni credo ci sia uno sgabello della tua parte del tavolo siedi ecco il tuo premio guglielmo si sedette posò il lume che gli avevo passato illuminando dal basso il volto di jorge il vecchio prese un volume che aveva davanti e glielo passò riconobbi la rilegatora era quello che avevo aperto nell'ospedale credendo in un manoscritto arabo leggi allora sfoglia guglielmo disse jorge hai vinto guglielmo guardò il volume ma non lo toccò trassa dal sai un paio di guanti non i suoi con la punta delle dita scoperte ma quelli che indossava severino quando lo avevamo trovato morto aprì lentamente la rilegatura consunta e fragile io mi avvicinai e mi chinai sopra la sua spalla orche col suo dito finissimo udì il rumore che facevo disse ci sei anche tu ragazzo lo farò vedere anche a te dopo guglielmo era arrivato al testo greco vedi subito che i fogli erano di materia diversa e più molle quasi strappato il primo con una parte del margine mangiato cosparso di macchie pallide come di solito il tempo e l'umidità producono su altri libri guglielmo lesse le prime righe prima in greco poi traducendo in latino e continuando poi in questa lingua in modo che anch'io potei apprendere come iniziava il libro fatale nel primo libro abbiamo trattato della tragedia e di come essa suscitando pietà e paura produca la purificazione di tali sentimenti come avevamo promesso trattiamo ora della commedia nonché della satira e del mimo e di come suscitando il piacere del ridicolo essa pervenga alla purificazione di tale passione di quanto tale passione sia degna di considerazione abbiamo già detto nel libro sull'anima in quanto solo tra tutti gli animali l'uomo è capace di ridere definiremo dunque di quale tipo di quindi quindi esamineremo i modi in cui la commedia suscita il riso e questi modi sono i fatti e l'eloquio mostreremo come il ridicolo dei fatti quindi nasca dalla assimilazione del migliore al peggiore e viceversa dal sorprendere ingannando dall'impossibile e dalla violazione delle leggi di natura dalle rilevante e dall'irrilevante e dall'inconseguente dall'abbassamento dei personaggi dall'uso delle pantomime buffonesche e volgari dalla disarmonia dalla scelta delle cose meno degne mostreremo quindi come il ridicolo dell'eloquio nasca dagli equivoci tra parole simili per cose diverse e diverse per cose simili dalla garulità e dalla ripetizione dai giochi di parole, dai diminutivi, dagli errori di pronuncia e dai barbarismi Guglielmo traduceva a fatica cercando le parole giuste arrestandosi a tratti traducendo sorrideva come se riconoscesse cose che si attendeva di trovare lesse ad alta voce la prima pagina poi smise come se non gli interessasse sapere altro e sfogliò in fretta le pagine seguenti ma dopo alcuni fogli incontrò una resistenza perché presso il margine laterale superiore e lungo il taglio i fogli erano uniti l'uno con l'altro come accade quando inumiditasi e deterioratasi la materia cartacea forma una sorta di glutine colloso Jorge avvertì che il fruscio dei fogli smossi era cessato e incitò Guglielmo Su, leggi, sfoglia, è tuo, te lo sei meritato Guglielmo rise e pareva piuttosto divertito Allora non è vero che mi ritieni così acuto, Jorge Tu non lo vedi, ma ho i guanti Con le dita così impacciate non riesco a distaccare i fogli l'uno dall'altro Dovrei procedere a mani nude Inumidirmi le dita sulla lingua Come mi è accaduto di fare stamane leggendo nello scriptorium Così che di colpo anche questo mistero mi fu chiaro E dovrei seguitare a sfogliare così Sino a che il veleno non mi sia passato in bocca in buona misura Dico il veleno che tu un giorno, tempo fa Hai sottratto al laboratorio di Severino Forse già allora preoccupato Perché avevi udito qualcuno nello scriptorium Manifestare delle curiosità o sul Finisafrice O sul libro perduto di Aristotele O su entrambi Credo che tu abbia custodito l'ampolla a lungo Riservandoti di farne uso Quando avessi avvertito un pericolo E lo hai avvertito giorni fa Quando da un lato Venanzio Arrivò troppo vicino al tema di questo libro E Berengario per leggerezza, per vanagloria, per impressionare Adelmo Si rivelò meno segreto di quello che tu speravi Allora sei venuto E hai predisposto la tua trappola giusto in tempo Perché qualche notte dopo Venanzio penetrò qui Sottrasse il libro Lo sfogliò con ansia Con voracità quasi fisica Si sentì male entro breve E corse a cercare aiuto in cucina Dove morì Sbaglio? No Va avanti Il resto è semplice Berengario trova il corpo di Venanzio in cucina Teme che ne nasca un'indagine Perché in fondo Venanzio era di notte nell'edificio Come conseguenza della sua prima rivelazione ad Adelmo Non sa come fare Si carica il corpo in spalla E lo butta nell'orcio del sangue Pensando che tutti si convincessero che era negato E tu come sai? Che avvenne così Lo sai anche tu Ho visto come hai reagito Quando trovarono un panno sporco di sangue da Berengario Col panno quello sconsiderato Si era pulito le mani Dopo che aveva messo Venanzio nel sangue Ma poiché era scomparso Berengario Non poteva che essere scomparso col libro Che ormai aveva incuriosito anche lui E tu ti attendevi che lo ritrovassero da qualche parte Non insanguinato Bensì avvelenato Il resto è chiaro Severino ritrova il libro Perché Berengario era andato dapprima nell'ospedale Per leggerlo a riparo da occhi indiscreti Ma la chia uccide Severino Istigato da te E muore Quando torna qui per sapere Cosa ci fosse di tanto proibito Nell'oggetto che l'aveva fatto diventare assassino Ecco che abbiamo una spiegazione per tutti i cadaveri Che stupido Chi? Io A causa di una frase di Alinardo Mi ero convinto che la serie dei delitti Seguisse il ritmo delle sette trombe dell'Apocalisse La grandine per Adelmo Ed era un suicidio Il sangue per Venanzio Ed era stata una idea bizzarra di Berengario L'acqua per Berengario stesso Ed era stato un fatto casuale La terza parte del cielo Per Severino e Malachia Aveva colpito con la sfera armillare Perché era l'unica cosa Che si era trovato sotto mano E infine Gli scorpioni per Malachia Perché gli hai detto Che il libro aveva la forza di mille scorpioni? A causa tua Alinardo Mi aveva comunicato la sua idea Poi avevo udito da qualcuno Che anche tu L'avevi trovata persuasiva Allora mi sono convinto Che un piano divino Regolava queste scomparse Di cui io non ero responsabile E annunciai a Malachia Che se fosse stato curioso Sarebbe perito Secondo lo stesso piano divino Come infatti è avvenuto E così allora Ho fabbricato uno schema falso Per interpretare le mosse del colpevole E il colpevole vi sia adeguato Ed è proprio questo schema falso Che mi ha messo sulle tue tracce Ai tempi nostri Ciascuno è ossessionato dal libro di Giovanni Ma tu Mi parevi quello che maggiormente vi meditasse E non tanto per le tue speculazioni sull'anticristo Ma perché venivi dal paese Che ha prodotto le apocalissi più splendide Naturalmente Mano a mano che prendeva forma L'idea di questo libro E del suo potere benefico Si sfaldava l'idea Dello schema apocalittico Eppure Non riuscivo a capire Come il libro E la sequenza delle trombe Portassero entrambi a te E ho capito meglio La storia del libro Proprio in quanto Indirizzato dalla sequenza apocalittica Era obbligato a pensare a te E alle tue discussioni sul riso Tanto che questa sera Quando lo schema apocalittico Non credevo ormai più Insistetti per controllare le stalle Dove mi attendevo lo squillo Della sesta tromba E proprio alle stalle Per puro caso Azzo Mi ha fornito la chiave Per entrare nel finisafrice Non ti seguo Disse Jorge Sei orgoglioso Di mostrarmi Come seguendo La tua ragione Sei giunto sino a me E però mi dimostri Che ci sei arrivato Seguendo una ragione Sbagliata Cosa vuoi dirmi? Nulla a te Sono sconcertato Ecco tutto Ma non importa Sono qui Come hai indovinato Che si trattava Del secondo libro Di Aristotele Non mi sarebbero bastati Certo i tuoi anatemi Contro il riso Né il poco Che ho saputo Sulla discussione Che avesti con gli altri Sono stato aiutato Da alcuni appunti Lasciati da Venanzio Non capivo A tutta prima Cosa volessero dire Ma c'erano Alcuni riferimenti A una pietra Svergognata Svergognata Che arrotola Per la pianura Alle cicale Che canteranno Da sotto la terra Ai venerandi Fichi Avevo Già letto Qualcosa del genere Ho controllato In questi giorni Sono esempi Che Aristotele Faceva già Nel primo libro Della poetica E nella retorica Poi Mi sono ricordato Che Isidoro Da Siviglia Definisce la commedia Come qualcosa Che racconta Stupra virginum Et amores Meretricum Piano piano Mi si è disegnato Nella mente Questo secondo libro Come avrebbe dovuto essere E te lo potrei raccontare Quasi tutto Senza leggere le pagine Che dovrebbero infettarmi La commedia Nasce nelle Comai Ovvero Nei villaggi Dei contadini Come celebrazione giocosa Dopo un pasto O una festa Non racconta Degli uomini famosi E potenti Ma di essere Vili e ridicoli Non malvagi E non termina Con la morte Dei protagonisti Raggiunge L'effetto ridicolo Mostrando Degli uomini comuni I difetti I vizi Qui Aristotele Vede la disposizione Arriso Come una forza buona Che può avere Anche un valore Conoscitivo E così Abbastanza L'hai ricostruito Leggendo altri libri Su molti dei quali Stava lavorando Venanzio Credo che Venanzio Fosse da tempo Alla ricerca di questo libro Deve aver letto Sul catalogo Le indicazioni Che ho letto anch'io Ed essersi convinto Che quello era Il libro Che lui cercava Ma non sapeva Come entrare Nel finisafrice E quando Ho udito Berengario Parlarne ad Adelmo Allora Si è lanciato Come il cane Sulla pista Di una lepre È stato così Me ne resi conto Subito Capì Che era arrivato Il momento Che avrei dovuto Difendere la biblioteca Con i denti E hai dato L'unguento Devi aver fatto Fatica Al buio Ormai vedono più Le mie mani Che i tuoi occhi A Severino Avevo sottratto Anche un pennello E ho usato Anch'io i guanti È stata Una bella idea Vero? Ci hai messo Molto Ad arrivarci Sì Io pensavo A un congegno Più complesso A un dente avvelenato O a qualcosa Di simile Devo dire Che la tua soluzione Era esemplare La vittima Si avvelenava Da sola E proprio Nella misura In cui Voleva leggere Mi resi conto Con un brivido Che in quel momento Quei due uomini Schierati Per una lotta mortale Si ammiravano A vicenda Come se ciascuno Avesse agito Solo per ottenere Il plauso Dell'altro La mia mente Fu attraversata Dal pensiero Che le arti Dispiegate da Berengario Per sedurre Ad elmo Erano nulla Quanto ad astuzia E a forse nata Abilità Nel conquistare L'altro Di fronte Alla vicenda Di seduzione Che si svolgeva Sotto i miei occhi In quel momento E che si era Dipanata Lungo sette giorni Ciascuno Dei due interlocutori Dando Per così dire Misteriosi Convegni All'altro Ciascuno Che la cristianità Aveva accumulato Lungo i secoli I padri Avevano detto Ciò che occorreva sapere Sulla potenza Del verbo Ed è bastato Che Boezio Commentasse Il filosofo Perché il mistero divino Del verbo Si trasformasse Nella parodia Umana Delle categorie E del sillogismo Il libro del Genesi Dice quello Che bisogna sapere Sulla composizione Del cosmo Ed è bastato Che si riscoprissero I libri fisici Del filosofo Perché l'universo Fosse ripensato In termini di materia Sorda e viscida E perché l'arabo Averroè Quasi convincesse tutti Dalla eternità Del mondo Ogni parola Del filosofo Su cui ormai Giurano anche I santi I pontefici Ha capovolto L'immagine Del mondo Ma egli Non era giunto A capovolgere L'immagine Di Dio Se questo libro Diventasse materia Di aperta interpretazione Avremmo varcato L'ultimo limite Ma cosa ti ha spaventato In questo discorso Sul riso Non elimini il riso Eliminando questo libro Oh no Certo Il riso È la debolezza La corruzione L'insipidità Della nostra carne È il sollazzo Per il contadino La licenza Per l'avvinazzato Anche la chiesa Nella sua saggezza Ha concesso Il momento Della festa Del carnevale Della fiera Questa polluzione Diurna Che scarica Gli umori E trattiene Stemmia Di impietà E dove si dice Come un malato Tu sei il diavolo Perché sa dove va Ridesse di te E non avesse più paura Tu sei il peggio del diavolo Minorita Minorita I confratelli Sono rientrati Sono rientrati Nelle nostre file Non parlano più Come i semplici I semplici Non devono parlare Questo libro Avrebbe giustificato L'idea Che la lingua Dei semplici Sia portatrice Sia portatrice Di qualche saggezza Questo Occorreva impedire Questo io ho fatto Tu dici che io sono il diavolo Non è vero Io Sono stato La mano di Dio La mano di Dio crea Non nasconde Ci sono dei confini Al di là dei quali Non è permesso andare Dio Ha voluto Che su certe carte Fosse scritto Ich Sunt Leones Dio ha creato Anche i mostri Anche te E di tutto Vuole che si parli Jorge Allungò le mani Tremule E trasse a sé Il libro Lo so So Come se lo vedessi Scritto A lettere di diamante Coi miei occhi Che vedono cose Che tu non vedi Io So Che questa Era la volontà Del Signore Interpretando La quale Ho agito Nel nome del Padre Del Figlio E dello Spirito Santo E dello Spirito Santo Moni Ovadia Moni Ovadia ha letto Il nome della Rosa Di Umberto Eco A cura di Anna Antonelli Fabiana Carobolante Lorenzo Pavolini Chiara Valerio Regia di Chiara D'Ambros Per scaricare E riascoltare il programma Radio3 Punto Rai Punto It A cura di